L'ora della pappa, poi sono arrivata in ritardo, quindi sono arrabbiati, vediamo Inchi, arrabbiatissimi. Eppi mangia nelle scatolette aperte perché, povero gattino, ci sono tutti i piattini, tutti i piattini pieni. Dai, vai là a far la pappa, bravo. Fiocco, guarda. Cos'è? Dai, Eppi, vai a far la pappa qua. Guardia. Eh sì. Sì. Sì.